e ben ragazzi io sono cd ricette e oggi do il benissimo episodio di fortnite ok ragazzi bentornati su questo titolo l'ultima volta noi avevamo letto come ultima news ottenghi un rosso decorativo con il tuo merchandising di fortnite oggi ragazzi farò di video 1 del 29 ottobre 1 del 100 ottobre comunque cominciamo con ciapolim colorado arriva in fortnite veloce comatatruga ciapolim colorado arriva in fortnite 29 10 9 21 dal team di fortnite tenetevi forte come sospettavate sin dall'inizio l'uno novembre ciapolim colorado arriva in forte per difenderci tutti quindi per voi sarà un giorno per me saranno due giorni il più amaro supereroe comico della tv internazionale festeggia il suo 51esimo libresario entrando in battaglia in fortnite caro da roberto gomez bolanos ciapolim colorado è un supereroe dal cuore d'oro sa trasportarsi riesce a captare i pericoli con le sue antenne e ha un sacco di super gadget per salvare il mondo goffo ma pieno di buone intenzioni ciapolim è amatissimo da tutte le famiglie dell'america latina e non solo si gamme los buenos questo qui è spagnolo non lo so pronunciare io so so pronunciare l'inglese e francese ciapolim rappresenta l'eroe quotidiano che c'è in che c'è in tutti noi e presto anche tu potrai diventare quell'eroe grazie al nostro ecologico sette oggetti poi che c'è in tutti non c'è un tutti e poi da salvare il mondo a partire dal 9 novembre dal 2 novembre alle 2 ora alle 2 i giocatori potranno acquistare bundle con i loro oggetti preferiti del set El Chapolin colorado oppure comprare gli oggetti separatamente in aggiunta al costume El Chapolin colorado ci verrà i seguenti costumi agente colorado capitana colorado capitana colorata soldato colorado amazona colorata guerriero guerrero colorado guerrera colorata eroe colorado eroina colorata defensor colorado e difensora colorata inoltre equipaggiati il dorso di colorativo paralisatron CH3000 e brandisci il tuo fedele piccone e shipot shillon infine finisci la vittoria reale o o la tua retribilata sagittica con le mot quello panda è il cunico le tue antenne le tue antenne ti aspettano ok ragazzi come sempre io spero che questo video è stato corto però spero che almeno vi sia piaciuto allora ragazzi come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto se il a poco sono uscito a ritrovare i commenti quindi non dico più se si può dico quindi quei ragazzi come sempre io spero il video è venuto comunque quei ragazzi come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto se il video è piaciuto a casa mi ha piaciuto un bel piace commentate condividete il sito canale attivate il carbo guarda ragazzi come sempre io spero che questo video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel piace commentate condividete iscrivetevi al canale e ragazzi sono episodio sempre qui su fortnite alla prossima ragazzi ciao